I sanitari del centro animali non convenzionale di Grugliasco lo hanno battezzato Godric, richiamando il personaggio di Godric Grifondoro della saga di Harry Potter, uno dei quattro fondatori della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. È un grifone recuperato lunedì 15 giugno a Torrepellice dai carabinieri forestali. Era denutrito, stremato, disidratato. Le radiografie eseguite al centro animali non convenzionali dell'Università di Torino a Grugliasco avevano evidenziato la presenza nell'ala sinistra di alcuni pallini. Si ipotizza che l'animale una volta colpito e caduto a terra non abbia più potuto riprendere il volo e alimentarsi. Messo davanti a una ciotola confrattaglie, Godric ha mostrato di gradire il cibo e, anche se deve essere sorretto dal personale del cance, ha ricominciato ad alimentarsi. Per aiutarlo a recuperare l'uso dell'ala impallinata, il grifone viene sottoposto a sedute di fisioterapia passiva. È comunque ancora troppo presto per fare ipotesi sui tempi di recupero e sul suo eventuale ritorno nell'ambiente naturale. Per aiutarlo a curare il cibo e il cibo e il cibo e il cibo e il cibo.